stavo pensando a questa idea del bel caffè che è molto diffusa in diversi bari di questa zona della sicilia e cioè questa idea di preferire la bellezza alla bontà meglio un bel caffè che un buon caffè e ma forse essendo qui in magna grecia l'idea è quella del kalos kaya gatos e cioè ciò che è bello e necessariamente anche buono Sara, ti stai mangiare la granita mia? perché era così bella che ho pensato che era pure buona, infatti è vero! ma di mortacci tua!